Non è possibile che in un paese serio ci sia uno che si fa le ferie nella villa di montagna. In questo momento sta con il panzone al sole nella villa al mare a Marina di Bibona in Toscana, poi si mette gli occhialini Ray-Ban a specchio e va a fare le consultazioni. Ui, ma che stiamo al teatro, al circo e qui, ma falla finire la rete, tutte queste palle. Bar Oasi, credo lungomare Colombo, ci dicono che continuano a mettere musica a tutto volume fino a notte avanzata. Ecco, questo è un bar che prima o poi noi chiuderemo. C'è stata una bellissima iniziativa sugli impresentabili, presa da una valorosa e leggiadra parlamentare del PD, tale Rosi Bindi, che Dio la abbia in gloria, presidente della commissione antimafia. Se togliete le risorse elementari ai comuni, le avete uccise, voi, voi, lei, senatore a vita a Monti, con tutto il cane in mano, che tristezza. Di ciarlataneria, quello che si traveste, questo casaleggio, mi fa divertire questo casaleggio. Anche qui, ho già detto che uno che si fa la permanente la mattina dopo i 50 anni, secondo me è capace di ogni delitto. Gasparri, che è conosciuto come lo sterminatore dei casellanti sull'autostrada. Questo è uno che non riesce mai a centrare l'uscita del casello, che usa lenti bifocali, come sapete. Quindi, Gasparri, questa strana mescolanza di umano e di pinguino, diciamo così. Travaglio. Sì, Travaglio. Travaglio, sì. Travaglio, sì. No, dico, ha fatto un editoriale... Travaglio Marco. Travaglio Marco, si chiama Marco, sì. Coccobello. No, no, no. Con questo sorrisetto sulla faccia. Va bene, ma parliamo invece delle accuse... Personaggetti, personaggetti, gentucola, cialtroneria pura. Va bene, però... Travaglio lo vorrei... Vede, io vorrei incontrarlo nel sottoscala di notte. No, 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 non è tanto. È come un coniglio dargli la botta finale. No, 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 no. Sono gentucola. Gentucola, perfetto. Personaggetti. Sì, però, io... Si risponde alle accuse, no? Perché appunto questi processi sono... In cui lei è coinvolto. Io sono orgoglioso dei miei processi. È orgoglioso. Se qualche reato è stato commesso era fin di bene, perché quando sono arrivato io qua, a Salerno, parentesi, travaglio questo, non lo sa, perché è un personaggetto. Ma lasci stare il personaggetto. Come ho trovato io Salerno? Quando è arrivato, non lo so. Eravamo al mesozoico. No, non credo, forse lei ha fatto molto, ma... Quando sono arrivato io mi pagavano in conchiglie.